Braccialetti Rossi 4 tutto sulla nuova stagione Braccialetti Rossi ha commosso e appassionato il pubblico italiano da ormai diversi anni. La serie però è tratta da un'altra fiction andata in onda in Spagna a sua volta come omaggio ad un romanzo di Albert e Spinosa. Le storie dei ragazzi che nonostante le molteplici difficoltà di salute hanno deciso di allearsi e farsi chiamare Braccialetti Rossi sono apparse innovative tanto da piacere al pubblico. Ecco cosa si sa finora della quarta stagione della fiction di Rai 1. Braccialetti Rossi 4 cast e novità Non si sa ancora molto sulla quarta stagione di Braccialetti Rossi ma quello che può far tirare un sospiro di sollievo ai fan è che sicuramente la serie andrà in onda. Dopo il calo di ascolti della terza stagione a lungo è circolata la notizia secondo la quale sarebbe stata quella conclusiva ma gli spoiler dimostrano che non è così. In un'intervista fatta a Carmine Buschini è emersa chiaramente l'intenzione di rinnovare il cast con numerose uscite di scena ma anche con nuovi ingressi che promettono di appassionare. Ad esempio appare molto probabile l'addio dello storico personaggio di Leo il quale dopo essere rientrato in ospedale per far rimuovere finalmente il suo tumore cerebrale è diventato genitore insieme a Chris. Entrambi vivranno la loro vita fuori dalle mura ospedaliere e dunque non faranno più parte del cast fisso di Braccialetti Rossi anche se non si possono escludere ritorni occasionali per aggiornare il pubblico sulla vita dei protagonisti. Anche Flam e Kikko non saranno presenti in questa quarta stagione ma ancora non si sa il motivo per il quale i telespettatori dovranno fare i conti anche con questa uscita di scena. Per fortuna però ci sono anche delle conferme. Valentino, Bella, la dottoressa Alisandri e Roberto sono confermati tra i personaggi e dunque continueranno ad essere interpretati dai loro rispettivi attori. Naturalmente il cast non sarà composto soltanto da loro ma da tanti nuovi protagonisti che verranno conosciuti dal pubblico soltanto nel corso delle prime puntate. Un drastico rinnovo forse per risollevare gli ascolti che non è ancora chiaro se possa essere gradito ai telespettatori molto affezionati ai personaggi presenti fino a quel momento. Braccialetti Rossi 4 Anticipazioni e trama La produzione della quarta stagione sembra sia cominciata e l'ambientazione non subirà modifiche. Non si conoscono ancora i palinsesti ufficiali del 2020 e non si sa quindi quando andrà in onda questa nuova stagione. Sulla trama però sono uscite alcune indiscrezioni. A quanto pare infatti Leo che aveva concluso la precedente stagione dovendo ancora affrontare il delicato intervento chirurgico al cervello si riprenderà e perciò dovrà abbandonare l'ospedale. Il giovane non dimentica mai i suoi braccialetti rossi idea che peraltro apparteneva a lui ma ciò nonostante decide di lasciare tutto per vivere finalmente una nuova vita con la moglie Chris e con il loro figlio. Lei vuole lasciarsi alle spalle la malattia ma non desidera abbandonare tutti i suoi amici, le sue conoscenze e anche ricordo di chi se n'è andato. Flam che già nella terza stagione aveva riacquistato la vista è destinata ad uscire di scena forse per vivere la sua guarigione in maniera libera e spensierata come è accaduto per Leo. Bobo deve fare conti con le difficoltà legate alla ricezione del cuore da parte di Nina che ha perso la vita dopo un incidente. Tanti altri personaggi però stanno per arrivare e sono destinati a cambiare radicalmente la trama appassionando in maniera sempre diversa il pubblico. Anche voi attendete con ansia la quarta stagione di Braccialetti Rossi? Cosa vi aspettate? A voi commenti! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News! Se il video ti è piaciuto metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti!